Naranonne Cappuccetto rosso. C'era una volta una bimba chiamata Cappuccetto rosso. Un giorno la mamma la mandò a trovare la nonna malata per portarle una torta e farle compagnia. Ma attenta, non passare per il bosco, le disse. Cappuccetto rosso non ascoltò la mamma e prese la strada del bosco. La bimba incontrò il lupo che le consigliò di andare a raccogliere dei fiori per la nonna in un prato vicino e allora il lupo corse a casa della nonna e bussò. Chi è? disse la nonna. Sono io, rispose il lupo facendo la voce di Cappuccetto rosso. Il lupo in un baleno saltò sulla nonna. Se la mangiò. Quando Cappuccetto rosso arrivò, trovò la porta aperta. Ciao nonna, come stai? Sono venuta a trovarti. Ma nonna, che orecchi grandi che hai! È per sentirti meglio. Che occhi grandi! È per guardarti meglio. Che bocca grande! È per mangiarti meglio. In un boccone se la mangiò. Il lupo sazio si mise a dormire. Cacciatore, che passava di lì, sentì russare così forte che entrò. Vide il lupo e subito gli tagliò la pancia per salvare Cappuccetto rosso e la nonna. La nonna e Cappuccetto rosso si abbracciarono felici e per festeggiare mangiarono insieme la torta della mamma.